La solitudine non è vivere da soli. La solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. La solitudine non è un albero in mezzo a una pianura dove ci sia solo lui. È la distanza tra la linfa profonda e la corteccia, tra la foglia e la radice.